ciao a tutti bentornati benvenuti sul canale youtube di easyharp io sono parlo de montis l'autore di easyharp la tua scuola di armonica blues online sul sito www.easyharp.it questo è il canale youtube di easyharp se non sei già iscritto ti invito a farlo oggi vi spiego come si fa l'overblow questo è un video che mi avete chiesto in tanti e quindi eccovi accontentati allora cos'è l'overblow andate a guardare il video dove vi spiegavo cos'è effettivamente questo overblow in sintesi l'overblow è una tecnica avanzata di bending o comunque di alterazione dell'intonazione delle note avanzata nel senso che effettivamente richiede un controllo molto efficace della tecnica del bending per poter approcciarsi alla tecnica dell'over bending di cui l'overblow fa parte l'over bending è quella tecnica che ci permette di aumentare l'intonazione delle note di partenza se il bending ci fa abbassare l'intonazione l'over bending ci fa aumentare l'intonazione tecnica avanzata nel senso che chiaramente non è non è semplice allora oggi vi spiego come fare però iniziate ad attrezzarvi con alcuni oggetti che vi saranno utili nella mia spiegazione dunque innanzitutto un'armonica in tonalità di do magari non proprio la vostra preferita sceglietene una insomma di quelle un muletto insomma un'armonica di qualità chiaramente non una cinesata da 5 euro quindi un'armonica performante ma magari non dico proprio un'armonica di sacrificio ma se succedesse qualcosa insomma alla fine non non vi mettete a piangere sulla vostra armonica preferita poi vi serve un cacciavitino e del dello scotch del nastro dello scotch di quelli trasparenti che però non attaccano cioè non lasciano residui di colla sulla superficie dove andiamo ad attaccare allora a breve scoprirete perché dunque io adesso l'overblow andiamo a cercare innanzitutto un overblow specifico quello sul sesto foro quindi adesso andiamo a capire come si fa l'overblow sul sesto foro potenzialmente lo potremmo fare sui primi sei fori della dell'armonica in realtà quelli più utilizzati sono il sesto il quinto il quarto quello più semplice quello che di solito viene fuori facilmente è il sesto foro e lì andiamo quindi io soffio nel sei questa è la nota naturale quando faccio l'overblow sentite che la nota sale allora in questo caso soffiando nel sesto foro noi otteniamo un sol con l'overblow otteniamo un si bemolle esattamente mezzo tono sopra la nota opposta nello stesso foro aspirando nel sei avremo un la mezzo tono sopra la diesis o si bemolle quindi noi otteniamo una nota più acuta allora ci sono però molti chiedono ma come si fa come si fa come si fa allora bisogna andarci molto cauti molto molto piano cioè bisogna assolutamente essere preparati perché ci sono delle condizioni di base senza il quale l'overblow non verrà fuori potete sforzarvi ma insomma le condizioni di base sono innanzitutto bisogna padroneggiare la tecnica del bending assolutamente bisogna padroneggiare la tecnica del bending sicuramente i bending aspirati con tutte le varie intonazioni insomma quindi bisogna essere in grado oramai di controllare il bending se avete difficoltà del sulla tecnica del bending concentratevi sulla tecnica del bending non buttatevi sull'overblow perché avrete sicuramente delle grandissime difficoltà quando avete la padronanza della tecnica del bending aspirando ok dovete assolutamente imparare anche la tecnica dei bending soffiati di cui vi ho parlato in un precedente video e quindi dovete essere in grado di piegare le note abbassare l'intonazione delle note che ottenete nell'ottavo nono e decimo foro soffiati della vostra armonica ok questi sono gli ultimi tre fori in particolare io sto utilizzando un'armonica in do come vi ho già spiegato chiaramente i bending soffiati sono un po più facili sulle armoniche di un'intonazione un po più bassa ecco in questo caso dovete essere in grado di fare il bending soffiando su un'armonica in do quindi dovete dimostrare di avere un buon controllo anche del bending soffiato soprattutto su queste note che sono molto acute in particolare io suggerisco sempre questo arrivati a questo punto ci siete potete azzardare insomma lo studio della tecnica dell'over bending in particolare dell'overblow per essere assolutamente certi della vostra preparazione io vi suggerisco di riuscire a ottenere il controllo del bending soffiando nel decimo foro il decimo foro si può piegare fino a un tono che non è assolutamente scontato con un'armonica in do ma si può piegare anche di mezzo tono ok riuscire a controllare quel mezzo tono di bending e tenerlo stabile su un'armonica in do nel decimo foro significa che oramai avete acquisito un ottimo controllo di tutta una serie di aspetti che sono legati a suonare l'armonica e alle varie alterazioni che noi possiamo fare arrivati a questo punto allora l'overblow fondamentalmente torniamo al sesto foro soffiato io soffio allora cosa succede quando io vado in overblow sto facendo vibrare lancia opposta che è messa diciamo controcorrente quindi noi dobbiamo assolutamente forzare la natura dello strumento ma questo non significa usare eccessiva energia ci vuole controllo non forza non prepotenza se soffiate molto forte non succede probabilmente niente di buono quindi sentite anche a volume piano si riesce allora bisogna comprendere effettivamente che cosa succede allora per comprenderlo adesso tiriamo fuori il nostro stiamo già utilizzando la nostra armonica muletto allora il cacciavite apriamo togliamo le cover dal dell'armonica in questo caso io ho bisogno di svitare due viti occhio a non perdere le viti ok dito le due vitine che tengono insieme fuori una e chiaramente fuori due in questo caso io ho due viti alcune armonica ne hanno quattro allora ripeto occhio a non perdere vitine perché schizzano come delle molle quando chiedono per terra ok ci siamo bene adesso io quindi tolgo le cover dall'armonica e quindi vedo le due play it due piastre dove sono rivettate le ance alla tenere teniamola sempre nel verso corretto quindi con con i bassi a sinistra e con gli alti a destra questo modo sopra abbiamo la piastra con le ance che vibrano soffiando quindi se noi occhio che adesso non abbiamo più le cover che proteggono le ance quindi facciamo attenzione che con la bocca possiamo anche andare a bloccare la vibrazione dell'ancia comunque andiamo sul sesto foro soffiato bene se io col dito vado a ad appoggiare il dito sul sulla play it proprio in corrispondenza della della sesta ancia lei chiaramente smette di vibrare quindi però sentite che l'aria continua a uscire quindi se io adesso blocco proprio vado direttamente a lancia del sesto foro 123456 bene metto il dito e vado centrate chiaramente il foro perché se sbagliate foro sentite uscire fuori un suono ma che non arriva da questo sesto foro quindi sentite che l'aria continua a uscire bene allora per non sbagliarvi anche per non avere questo dito insomma che vi può confondere prendiamo il nostro scotch il nostro scotch ne tagliamo un pezzettino ok vediamo se così va bene allora e cosa faccio lo vado ad applicare lo vado ad applicare sopra ecco qua dovrei tagliarne un po perché non ho preso fin troppo quindi magari con una forbice elimino di troppo così vado ad attappare soltanto il sesto foro ok più o meno più o meno ci siamo ok vi faccio vedere ok ok sono andato sul sesto foro ho applicato questo pezzo di nastro che va quindi a sigillare bene quindi non ho più bisogno di usare il dito per tappare sono più comodo bene adesso centriamo il sesto foro chiaramente e sentite che chiaramente lancia che normalmente vibrerebbe soffiando non vibra più ma l'aria continua a uscire l'aria è come acqua non si ferma allora in questo caso noi siamo molto agevolati perché cosa stiamo facendo stiamo simulando il 50 per cento della 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 tecnica dell'overblow perché 50 per cento della tecnica corrisponde a mandare in blocco lancia che normalmente vibrerebbe soffiando e questo ve lo spiego magari un attimino dopo significa fondamentalmente simulare una sorta di bending soffiato ok chiaramente noi sappiamo che sesto foro soffiato non si piega ok si piega sesto foro aspirato ma noi facciamo finta di in questo modo noi comunque mandiamo in blocco dobbiamo mandare in blocco lancia soffiata a quel punto se inneschiamo la rimanente quota del 50 per cento della tecnica riusciamo a far vibrare lancia apposta in questo caso noi abbiamo simulato la prima parte della tecnica la prima metà direttamente con un pezzo di nastro quindi lancia è già in blocco di suo adesso se io penso magari soffi un po più forte in questo caso avete sentito uscito fuori un suono l'aria da qualche parte deve uscire quindi io continuando a soffiare sentite sentite e tra l'altro sentite magari anche col labbro occhio a non bloccare col labbro lancia inferiore che chiaramente si trova in questa situazione e quindi la parte libera è proprio vicino al labbro quindi se voi continuate a soffiare esce fuori un suono a un certo punto con questo stratagemma è praticamente matematico ve lo posso assicurare tutti i miei studenti insomma quando io li avvicino a questa tecnica li spiego insomma questo artificio eccomi e sentono il suono è molto importante che voi sentiate che effettivamente questo suono viene fuori allora quindi io torno sentite che il suono c'è ed è anche importante perché non ho la possibilità di che l'aria venga che passi attraverso invece il lancia opposta che in questo caso è bloccata allora se io utilizzo adesso riprendo questa invece non ha niente quindi vado al sesto foro questo sarà il suono dell'overblow adesso torno sull'armonica con l'ancia bloccata soffio non esce fuori niente penso di far mentre soffio spingo un po' di più e penso tra l'altro di far uscire l'aria dal basso anche perché l'aria dovrà uscire dal basso quindi penso proprio di soffiare verso il basso pensatelo verrà assolutamente naturale e sentite questa nota che è è uguale a questa tra l'altro in un'armonica normale dove insomma non ho fatto nessun artificio la nota esce fuori però devo stare molto attento a tenerla stabile una volta che insomma ho capito un po' come deve funzionare la tecnica e in questo caso la nota è già stabile di suo perché non c'è possibilità di dispersione d'aria quindi in questo modo voi iniziate a soffiare normale dopodiché spingete un po' di più e pensate di simulare un band in soffiato spingete l'aria verso il basso quindi io ho la posizione della lingua simile a quella che terrei per fare un band in soffiato negli ultimi fori quindi se vi domandate eh non mi viene come devo tenere la lingua prendete l'altra armonica tenete un bel band in soffiato negli ultimi fori memorizzate la posizione della lingua e assolutamente l'overblow viene fuori adesso la difficoltà è fare a meno di questo nastro però avete già idea del suono che dovrà venire fuori questo è molto importante memorizzate questo suono quindi adesso io prendo lascio il nastro prendo l'armonica invece normale dove insomma non c'è nessun nastro attaccato quindi se io soffio soffio sul sesto foro questo è il sol normale allora la prima parte dell'overblow come vi dicevo prima è mandare in blocco l'ancia che in questo momento sta vibrando che è l'ancia appoggiata sulla sulla piastra di sopra quella su cui abbiamo messo il nastro ok bene su questa nota voi ricordatevi la posizione che andreste a tenere negli ultimi fori per fare un bending soffiato e applicate la stessa impostazione ok soffiando sul 6 quindi se io per fare un bending soffiato partendo dalla nota naturale dovrò fare tutta una serie di adattamenti all'interno della bocca quindi seguite quel procedimento fate la stessa cosa soffiando sul sesto foro adesso in questo caso è uscito fuori proprio subito e adesso provo sentite che quando io innesco questo finto bending soffiando sul sesto foro a un certo punto sentite che l'ancia si pianta il suono si interrompe e magari escono fuori dei suoni sferraglianti adesso non so se si sente ma io ho mandato in blocco quindi mi son fermato a metà strada cosa che per me è assolutamente difficile nel senso che è un attimo che parte l'altra ancia mi mando in blocco il sesto foro soffiato e l'aria continua a uscire a quel punto magari do una spintarella ma non troppo ma soprattutto penso di voler continuare a fare il bending cioè il problema è che io sono inibito dal fatto che eh ma non si piega no certo non si piega ma questa è l'impostazione che mi permette di andare oltre io devo riuscire a far vibrare lancia opposta quindi applicando tutte le informazioni che cerco di memorizzare insomma su su questa armonica che ci permette di allenarci soprattutto di sentire il suono di capire quali sono le impostazioni qui comunque quando soffio è già in blocco e poi se continua a soffiare la nota esce fuori forte eh perché è bloccata lancia opposta qui no quindi devo farlo io sentite ecco a certo punto probabilmente voi arriverete lì riuscirete ad arrivarci dopo il che sentirete sferragliare sferragliare tutto allora dovete andare oltre siete arrivati a metà strada andare oltre significa magari spingere un po' di più ma non troppo e andate a riguardarvi proprio il video dove vi spiegavo bene l'impostazione per i ben insoffiati se tenete tutto correttamente impostato l'overblow viene fuori l'overblow viene fuori sul stesso fuori viene fuori chiaramente praticamente su tutte le armoniche di un certo livello ok quindi ma va benissimo anche una Honor Special 20 ok non dovete assolutamente pensare di avere un'armonica costosa una volta che riuscite a far suonare questa nota ok cercate sforzatevi di tenerla sarà molto instabile all'inizio è assolutamente normale se siete arrivati a questo punto probabilmente avete già superato tutti gli scogli relativi alla tecnica del bending ma se fate mente locale la prima volta che vi siete approcciati alla tecnica del bending vi siete trovati tutta una serie di difficoltà che avete risolto e superato con l'esercizio la pratica con lo studio e anche all'inizio anche i bending venivano male erano instabili non erano intonati con lo studio avete sistemato tutta una serie di problematiche siete arrivati anche al controllo dei bendi soffiati bene adesso vi state approcciando una nuova tecnica quindi è normale che sia tutto instabile all'inizio non c'è una formula magica anche perché tutto dipende da come impostate il vostro sistema di controllo che fondamentalmente sta dentro la vostra cavità orale lo spazio libero la posizione della lingua insomma seguite i miei consigli partite dall'armonica con il nastro memorizzate il suono addestratevi sui bendi insoffiati sulle note alte dell'armonica in do memorizzate l'impostazione e cercate di fare la stessa cosa soffiando su sei fate finta di fare un bendi insoffiato fate finta di piegare di mezzo tono il decimo foro soffiato su questa armonica applicate il massimo controllo e la nota uscirà fuori e riuscirete anche a renderla stabile quando poi sarete in grado di ottenere questa nota cominciate chiaramente a utilizzarla inseritela magari in una piccola frasettina in questo caso il sesto foro soffiato è l'overblow forse più utile suonando in seconda posizione perché corrisponde al terzo foro aspirato con bending un'ottava sopra quindi se io suono una frase due bending di un tono due aspirato tre bending di mezzo tono e poi chiuso sul due aspirato una bella frasettina un bel lick blues allora provo a trasporre la nota da sopra questa frase quindi quello che era due bending di un tono diventa cinque aspirato due aspirato diventa sei soffiato il tre bending di mezzo tono diventa il sesto overblow e questo mi permette tra l'altro di agganciarmi alla parte più alta dell'armonica registro più alto e quindi magari di ottenere un'estensione della nostra scala blues anche su un'ottava più alta assolutamente molto utile ma anche solo il sei overblow ci permette di estendere il nostro fraseggio quindi armatevi di santa pazienza di tanta volontà perdeteci tanto tempo ma cercate di scrutare ogni singola impostazione interna della vostra bocca seguite tutti i consigli che vi è dato sono sicuro che il sesto foro overblow sul sesto foro verrà fuori bene questo era il video di oggi spero vi sia piaciuto che vi sia utile se è così stato magari lasciate il vostro like se non sei già iscritto al canale di youtube di easyarp ti rinnovo l'invito a farlo iscriviti ora e clicca anche sulla campanellina per ricevere tutti gli aggiornamenti in tempo reale ricordo inoltre che potete seguire easyarp anche sui diversi social facebook instagram telegram e se non l'hai già fatto ti rinnovo l'invito a visitare easyarp 2.0 la tua scuola di armonica blues online sul sito www.easyarp.it dove trovi una vera e propria scuola di armonica blues online con tanti corsi divisi a livelli community di studenti possibilità di sostenere gli esami di certificazione al proprio livello armonica blues standards da studiare e quant'altro ti può tornare utile per seguire un percorso guidato di apprendimento dell'armonica blues e ricordate che imparare a suonare l'armonica è facile con easyarp take it easy take it easy arp ciao un saluto a tutti 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 un saluto a tutti